Oiii Savoia! Che vedranno sarebbe? Medici e Savoia! Lui è mio figlio e sai cosa vuol dire la potenza dei controlli? Per essere la campana non suona se il campanaro non tira la torta Ma che secondo me mi abbia assoluto il duvido per soffrire la verità? Il principe non intende firmare la forza Vedrai padre, troveremo il matrimonio giusto Sono giovane e ho la forza di un vulcano Possiamo scegliere il piccolo? No, no, no! L'erotica impresa, spettacolo teatrale della compagnia La Colombara di Breganze Regia di Nicola Pegoraro Sì! 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 Certo! Ora possiamo salvare il regno di Valtavano! Come vi dicevo sono un vulcano! Sì! 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 Sì!